Ci sono giorni che torni a casa così stanco che vorresti solo rilassarti sul divano. Ma a casa c'è sempre da fare. C'è sempre qualcuno di cui prendersi cura o qualcosa da sistemare. E alle volte anche le cose più comuni diventano faticose. Per fortuna c'è chi si prende cura di te. Chilometrocampania.it Basta un clic e ti portano la spesa fino a casa. E su veloci. Perciò bisogna sempre farsi trovare pronti. O quasi. Mamma, mamma, guarda che cosa ho trovato. Papà, ma come fai ad avere sempre tutto se non ci sei mai a casa? Chilometrocampania.it Sì. Sì. Sì.